Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Diceva loro e oggi lo dice a me, lo dice a te. Ma date a ciò che ho detto. Senti, mentre ascolti, devi prendere decisione di fare quello che lui dice. Allora vedi qualcosa che, se no dimentichi, se no ti sfuggi, se no se ne va. Perdi tutto. Preghiamo il Signore insieme, così chiediamo al Signore di intervenire attraverso la presenza dello Spirito Santo nella tua vita, nella mia vita. Che mi ispira, che mi guida e che unga la sua parola perché possa portare a rifletterci per iniziare un cammino oggi insieme con lui. Tu puoi nascere di nuovo. Abbiamo cantato, ci credo, perché ho visto tanti che sono nati di nuovo e tu puoi nascere di nuovo oggi. Ma tu vuoi nascere di nuovo o no? Se vuoi nascere di nuovo, ascolta con attenzione. Gesù faceva proprio questa domanda. Mentre il paralitico gli diceva, non c'era chi lo buttava in acqua, nessuno ci pensava, un altro arrivava priva di lui e non c'era. Gesù gli chiese, ma tu vuoi essere guarito? E lui continuava a dire, sono 40 anni, sono nato così, tutti i giorni mi portano qui, però ogni volta che arriva l'angelo io non posso fare niente. La domanda era, ma tu vuoi essere guarito? Quando Gesù comprese che voleva essere guarito, disse, prendi il tuo lettuccio e vai a casa. Si dimenticò che era malato. Prese il lettuccio ed ecco che ce la faceva, perché la parola di Gesù contiene l'onnipotenza di Dio. E quando lui parla e noi facciamo quello che dice, cambia tutto. Perciò ascoltiamo e dobbiamo fare quello che dice. Diceva loro e oggi lo dice a noi. Badate bene a ciò che ascoltate. Invochiamo la sua divina presenza. Lui dice che dove sono due o tre radunati nel suo nome è già presente. Mettiamoci insieme. Lui è già presente. Preghiamo insieme. Prega insieme con me. Signore, ti ringraziamo che la tua parola ci dice che sei presente con noi. E noi siamo in prima fila con te. Veniamo a te e ti diciamo. Signore, parlaci attraverso la tua parola. Fa che possiamo intendere quello che tu ci dici. e subito fare quello che dici tu. Nel nome di Gesù, o Dio Onnipotente, nostro Dio, Gesù, nostro Maestro e Salvatore, Spirito Santo, guida la tua parola ai nostri cuori. Te lo chiediamo, o Dio, nel nome di Gesù. Amen, Amen, Amen. Mettici un bel Amen e di così sia. E andiamo. Ascoltiamo Gesù che parla. Leggiamo insieme in Marco 4,24. Bellissima la parola del Signore. Ci vuole parlare in un modo chiaro. Diceva loro ancora, badate a ciò che udite. Con la misura, con la quale misurate, sarete misurati pure voi. E a voi sarà dato anche di più. Cioè, quando il seme cade nel nostro cuore, se noi stiamo attenti e gli diamo spazio, come ogni chicco di grano produce una spiga, ne abbiamo di più, perché attecchisce, si sviluppa e porta il frutto. Così la parola di Dio nella nostra vita cresce, si sviluppa e porta frutto. Riceviamo di più. Ho appena letto le parabole. Propose loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna mette nella farina. Che cosa succede? In silenzio. Come ho detto prima del bambino, il lievito fa crescere tutta la pasta. In silenzio sta lì. Perché contiene dentro di sé quella forza se tu conservi la parola del Signore e gli dai spazio fa crescere l'opera di Dio nella tua vita. Alleluia. Un dono spirituale. Se lo curiamo, la vita spirituale che scende nella nostra vita e lo esercitiamo, gli diamo spazio, cresce e ci sarà dato in più. Se invece restiamo indifferenti senza dare una risposta quando Gesù ci parla, si evaporizza, si perde. Leggiamo il verso 25. poiché a chi ha sarà dato. Cioè, se curiamo il seme che cade nella nostra vita porta frutto. Se invece lo lasciamo andare, si perde. A chi non ha sarà tolto anche quello che ha. cioè ascoltiamo con interesse per fare quello che comprendiamo, allora si sviluppa. Non abbiamo interesse? Tra poco, quando spegniamo, quando fermiamo il canale, quando fermiamo la riunione che stiamo facendo, ti metti a fare altre cose e si perde tutto quello che hai ascoltato. Il Signore ti vuole parlare, lo Spirito Santo ti dà dei punti che ti tocca, ti colpisce, però poi tu non sei interessato, non sei interessata e di conseguenza si svanisce, si perde tutto. Non si vede neppure dove era stato piantato. Signore, aiutaci questa mattina. Se ascoltiamo e non diamo spazio alla parola, perdiamo pure quello che sappiamo. Ci sono dei contrasti nella nostra vita e noi dobbiamo superarli, dobbiamo fare spazio. Gesù lo sa, perciò ci dice bada come ascolti. Badate a ciò che udite. Ma quali sono le difficoltà che ci circondano perché dobbiamo stare attenti e dobbiamo subito curare la parola di Dio che si sviluppa nella nostra vita. Noi abbiamo un nemico comune, tu lo sai. In altre parabole Gesù lo spiega perché le parabole ci aiutano in un modo semplificato per farci comprendere. ce ne sono parecchie, sono le più facili da comprendere, però diventano facili da capire se noi li mettiamo in pratica. Se non li mettiamo in pratica non capiamo niente. In Matteo 13,19 è una delle parabole. Leggiamo. Tutte le volte che uno ode la parola del regno, vedi, il regno si introduce nella nostra vita attraverso la parola e non la comprende. Viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questo è quello seminato lungo la strada. hai visto mai mettere grano nella strada, sulle strade? No. Perché non attecchisci? Se il tuo cuore è duro non c'è la predisposizione di voler assorbire la parola, ascoltare con attenzione, dare spazio. Come fa a portare frutto? perciò ci vuole una predisposizione. Ce l'hai questa mattina? Se no, che ascolti a fare? Per certo mi fa piacere, è facile che tu sostieni pure quest'opera perché ti piace, ti fa compagnia, ci sono tante belle cose, tante belle parole che diciamo, però non ti devi fermare a questo. Signore, aiutala stamattina a questa sorella, aiuta a questo fratello, lì dentro di te, aiutami Signore, dillo col cuore, perché siamo davanti alla sua parola e lui che si serve di me per leggerla, però lui parla al tuo cuore. Viene il maligno e porta via ciò che è stato seminato, il maligno tutte le volte e noi le volte, tutte le volte, una volta alla volta, lui fa sempre così, tu dici ma è venuto una volta e mi ha fatto dimenticare, è venuto un'altra volta e mi ha portato un altro fastidio, lui tutte le volte fa così e noi che cosa facciamo? noi tutte le volte dobbiamo ascoltare con attenzione, tutte le volte dobbiamo porre mente come ascoltiamo, non ci deve essere una volta che leggiamo la parola, meditiamo la parola o ascoltiamo la parola che dobbiamo stare con la testa all'altra parte, vuole il Signore che noi ascoltiamo con l'intenzione di voler fare quello che riusciamo a comprendere, con il desiderio dentro di noi sempre che dice Signore, cioè un assorbimento continuo, Signore, fammi comprendere per fare quello che tu mi dici adesso, come dire parla poiché io ti ascolto. Dobbiamo essere intenti nell'ascolto perché tutte le volte il diavolo viene, noi tutte le volte non dobbiamo come quando abbiamo qualcosa di prezioso. in una parabola Gesù dice che la perla di grande valore è Lui, non c'è dubbio e noi dobbiamo lasciare tutte le altre cose e con attenzione curare, seguire le indicazioni che Lui ci dà perché tutte le volte il nemico ci vuole rubare quello che riceviamo e noi tutte le volte dobbiamo stare attenti come nelle cose materiali ci sono in giro borsaioli di quelli che ti rubano l'orologio di quelli che rubano nelle borse ma tutte le volte stai attenita. Mia moglie aveva una borsa grande ha detto devo comprarmi un borsellino di quei piccoli me lo metto a tracollo e lo porto davanti così sono sicura. Mio nonno quando andava nelle fiere c'erano anche allora i borsaioli lui si era fatto una tasca che se la metteva al collo e la teneva dentro sotto la camicia sotto le maglie quando doveva prendere i soldi sbottotava tutto e apriva e tirava fuori qualche mille lire lo dovevano uccidere per perdere quel tesoro ma nessuno glieli poteva rubare per distrazione allora quando Gesù dice che è simile a un tesoro che cosa vuole dire sorella fratello tu comprendi bene dobbiamo stare con attenzione quando ascoltiamo la parola del Signore noi tutte le volte che ascoltiamo il diavolo ce la vuole rubare tutte le volte una volta alla volta noi dobbiamo stare attenti mi ricordo nelle fiere tanti anni fa perché facevamo le fiere c'erano degli zingari erano delle teppe che erano pericolose loro vendevano asini però quando vedevano che qualcuno incassava i soldi di aver venduto un bue un vitello un maiale guardavano dove mettevano i soldi e poi usavano una tattica particolare facevano finta che si visticciavano tra di loro e andavano vicino a quello che aveva conservato i soldi in tasca facevano finta che si litigavano tra di loro lo avvolgevano gli infilavano la mano in tasca e gli rubavano i portafogli ciao tesoro aveva lavorato una vita per crescere quel vitello e gli zinc degli eroghi avevano rubato attenzione il diavolo fa così con te tutte le volte che ascolti la parola tu tutte le volte bada a ciò che ascolti per metterlo in pratica sono insegnamenti pratici che ci dà il Signore infatti le parabole sono insegnamenti pratici perché lui vuole rassomigliare come è fatto il regno di Dio dentro di noi che bello Signore è così semplice leggiamo nel verso 39 una volta alla volta il nemico che l'ha seminata è il diavolo la mietitura è la fine dell'età presente i mietitori sono gli angeli che cosa era successo qui leggiamo nel verso 38 lui cerca di mettere al posto del seme della parola mette le zizzanie per non far crescere la parola ti dà sempre la versione sua quando Dio dice una cosa lui mette sempre il contrario il buon seme sono i figli del regno la zizzania sono i figli del maligno è facile che quelli che ti circondano professano di essere cristiani ma non lo sono e di conseguenza sono strumenti che vengono usati dal diavolo per seminare cose che ti fanno perdere ciò che il Signore ha seminato nella tua vita semplice è facile che professano di essere cristiani e sono strumenti nelle mani del diavolo ci sono anche nella Chiesa che ti fanno sentire che ti rubano la preghiera che hai da fare la testimonianza che tieni come se qualcuno geloso ti sottraghe quello che tu senti che devi dire o che devi fare in quel momento in secondo Corinzi capitolo 11 dal 13 al 15 ci dice che possono essere anche nella Chiesa quei tali sono fassi apostoli professano pure di essere apostoli oppure altri operai fraudolenti che si travestono da apostoli da evangelisti da credenti di Cristo non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia però dove la differenza la loro fine sarà secondo le loro opere Gesù dice badate bene ciò che ascoltate un confronto un po' di attenzione non prendiamo tutto per buono la parola di Dio è il nutrimento della nostra anima per la crescita della nostra vita spirituale dobbiamo stare attenti di guardare con attenzione da che pulpito viene la predica e dobbiamo anche interpretarla nel modo giusto perché con Gesù il diavolo la interpretava a modo suo badate a ciò che udite in Matteo 13 dove ci sono parecchie parabole vale a leggere sono tutte semplici da comprendere chiedi al Signore fammi comprendere cosa vuoi dire a me personalmente perché la parola quando la leggiamo serve per noi leggiamo il verso 22 del capitolo 13 quello seminato tra le spine è colui che ode la parola qui personifica proprio ognuno di noi poi le ansiose preoccupazioni mondane e l'ingano delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa vedi la parola porta frutto dentro di noi quando la curiamo quando gli diamo spazio come ho detto un seme della parola seminata curata nella nostra vita ne esce fuori una spiga di grano o anche 5-6 spighe se noi non lo curiamo che cosa succede leggiamo l'ultimo rigo per cortesia rimane infruttuosa perché viene soffocato immenso a quelle preoccupazioni alcune cose sono già radicate ed altre siamo presi dalle faccende domestiche già non siamo molto portati per le cose spirituali se poi ci lasciamo andare pure in quello spazio di tempo che noi abbiamo deciso di restare col Signore o di ascoltare la Sua parola già siamo distratti dai telefoni da tutte le faccende domestiche che ci succede? non ci resta niente quante volte ti succede perché stiamo con la testa un poco presa di qua e di là c'era una sorella quando tornava a casa diceva sempre che bel messaggio oggi ha fatto il pastore veramente era toccante Signore mi toccava mi parlava il Genero gli ha chiesto di che cosa ha parlato ah non me lo chiedere perché non mi ricordo non si ricordava nulla perché? perché subito dopo il culto non appena il Signore gli stava parlando hanno cominciato a parlare con le sorelle hanno cominciato a parlare che dobbiamo fare cosa abbiamo fatto dove andiamo oggi che facciamo domani i fastidi della famiglia non gli era restato niente se fai così sorella fra te anche tu non ti resta niente pensa quanti culti hai fatto che cosa ti ricorda non ti ricorda invece quelle cose che li applichi nella tua vita lasciano un'impronta dentro di te signore signore aiutaci questa mattina alcune cose sono già radicate dentro di noi ed altre siamo presi dalle faccende domestiche la Bibbia è meravigliosa perché ci sono degli esempi di persone che prima di noi sono passate dove siamo noi perché sono scritte qui dentro per esserci di aiuto per fare quelle cose che sono buone metterle in pratica e dire voglio fare pure io così quelle che sono sbagliate non dobbiamo ripetere gli errori che hanno fatto gli altri perché il signore ha voluto scrivere queste cose per nostro ammonimento in modo che non commettiamo gli stessi errori ma ci sono dei credenti che commettono pure io succede ma una volta due ma non dobbiamo stare sempre a fare così leggiamo insieme in Giovanni capitolo 10 verso 40 c'è un esempio che ci aiuta Luca 10 40 chiedo scusa ma Marta tu hai sentito parlare di questa sorella che poi meno male si convertì tutta presa dalle faccende domestiche venne e disse signore non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire dille dunque che mi aiuti eccoci qua anche questo quando dobbiamo ascoltare Gesù le faccende domestiche invadono il nostro cuore lei non aveva compreso che Dio era a casa sua se no non avrebbe detto così perché in teoria sapeva che Dio fin da quando era apparso a Mosè voleva grande riverenza lo sapeva però non sapeva chi era Gesù Gesù è Dio perché in teoria sapeva che Dio aveva detto a Mosè quando si muoveva come lei per andare correre e vedere il fenomeno che Dio era nel pruno in Esodo 3 4 leggiamo il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse Mosè Mosè ed egli rispose eccomi Dio vuole riverenza voleva riverenza perciò lo fermò subito leggiamo nel verso 5 Dio disse non ti avvicinare qua togliti calzari dai piedi perché il luogo sul quale stai è suolo sacro ora Dio era a casa sua a casa di Marta come adesso è a casa tua noi ci siamo radunati nel nome del Signore Gesù abbiamo pregato siamo uniti insieme il Signore ci credi che è a casa tua e qui da me perché noi siamo radunati nel suo nome abbiamo chiamato insieme invocato lo Spirito Santo che avesse guidato la sua parola come stai tu seduta come stai con la mente dove stai col cuore Marta sapeva che ci voleva riverenza per Dio però Gesù era a casa sua Gesù è Dio e lei era presa dalle faccende domestiche queste storie li sappiamo ne parliamo li leggiamo li meditiamo ma come se fossero diventate litanie li ripetiamo però non pensiamo che una volta ogni volta dobbiamo stare attenti perché il diavolo usa tutte le astuzie per non farci avere comunione con Gesù ora era a casa sua ma lei presa dalle faccende non sapeva Gesù in altre parole nel verso 6 leggiamo cosa stava dicendo poi aggiunse io sono il Dio di tuo padre il Dio di Abramo il Dio di Isacco il Dio di Giacomo Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio quando lei si lamentava Gesù gli indicò Maria e disse a Marta Maria ha capito ma tu non hai capito niente erano due sorelle andavano nella stessa sinagoga frequentavano gli stessi culti però Maria aveva capito Marta non aveva capito niente non stiamo accusando nessuno però la parola di Dio ci parla perché Gesù dice vada a ciò che ascolti ciò che odi perché questo succede pure a te se dobbiamo pregare ci viene il sonno se dobbiamo leggere ci addormentiamo se cominciamo a parlare di altre cose ci passa il sonno succede sempre così ci sono delle sorelle dei fratelli che se dobbiamo pregare non escono le parole se dobbiamo dare la testimonianza si blocca in gola tutto se poco poco cominciamo a parlare del pro e del contro non si fermano più che cosa può essere tutto questo non pensi che dietro le quinte c'è una forza c'è un nostro nemico che ci ispira per farci dirottare in altre direzioni e non farci capire niente quando il Signore ci vuole parlare tutte le volte fa così pure stamattina è successo noi ci alziamo presto per pregare ho visto che durante la preghiera stava tutta come se fosse stata un po' dispiaciuta era un po' il sonno ha detto io non mi sono ancora svegliata la mattina mi succede spesso così abbiamo parlato un poco di qualche cosa nel frattempo che riguardavano poi gli è passato subito il sonno ho detto quando parliamo di altre cose vedi si è diventata già fermiamoci un attimo preghiamo noi stiamo pregando è sempre così una volta alla volta perciò noi una volta ogni volta dobbiamo stare attenti Gesù gli disse Maria ha capito e tu no Maria aveva Maria aveva o era nella posizione per ascoltare nel modo giusto proprio come 1500 anni prima Dio aveva fatto con Mosè così deve essere anche per noi che faceva Maria leggiamo il verso 42 Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta ma come le faccende non li doveva fare ci sono le faccende che li dobbiamo fare ma adesso che abbiamo stabilito di stare quest'ora e mezza insieme sore ci dobbiamo organizzare prima o dopo perché già il nemico non ci vuole far capire niente se poi noi stiamo con la testa un'altra parte tutte le volte non capisci niente non cambia niente ti stanchi e diventi una un cristiano formale vai e vieni ti siedi ti alzi sempre un robot un robot un robot un robot religioso ce ne sono tanti mamma quanti ce ne sono adesso che lo spirito santo se vuole entrare per dire per dire un cambiamento da portare ma manco per sogno hanno la loro sedia il loro modo dicono sempre le stesse parole ci sono alcuni professionisti della preghiera che nella chiesa quando pregano già sai che cosa dicono perché si sono tanto abituati che ripetono sempre le stesse cose sembrano quelli dell'intelligenza artificiale ma così si diventa così sono i cristiani ma guardiamo gli apostoli i discepoli ma non è possibile come stava Maria leggiamo un'altra volta il verso 42 ma mi piace la Bibbia perché mi fa sentire felice mentre medito Maria ha scelto la buona parte e non le sarà tolta come stava Maria Maria stava in uno stato di adorazione di riverenza verso Dio che era a casa sua oh gloria a te Signore ma tu capisci che dico io io non dico mi spiego perché mi spiego bene lo so sento lo Spirito Santo che mi porta a questi argomenti semplificati tu capisci che dico stava in uno stato di adorazione di meditazione lo sapeva ma le faccende avevano avevano fatto nella vita di Marta è diventata un emblema Marta molti lo fanno fanno come Marta e non se ne accorgono che loro sono Marta vada bene come mi ascolti sore tu che mi senti ascolta bene ciò che dice il Signore vada ciò che udite vada ciò che odi quando morì Lazzaro tu sai questa famiglia com'era erano tre persone non si parla della mamma del padre forse erano già morti tutto un tratto una malattia rapida morì Lazzaro Gesù lo sapeva perché Gesù sa tutto quello che succede a casa tua a casa mia beh guardiamo questa Marta come si muore leggiamo insieme nel capitolo 11 verso 20 perché questo è un emblema è una come noi non ti preoccupare noi la rassomigliamo però dobbiamo stare attenti non dobbiamo ripetere gli stessi errori guardiamo insieme non Luca 11 20 Giovanni 11 20 vediamo Marta un'altra volta che figura che emblema rassomiglia a noi come Marta ebbe udito che Gesù veniva gli andò incontro ah questa volta però va verso di lui e Maria Maria stava seduta in casa ecco la frettolosa lei voleva subito risolvere il problema c'era il problema era morto il fratello che immagine proprio come facciamo noi succede pure a me corse il bisogno ci fa andare e subito disse a Gesù nel verso 21 leggiamo insieme Marta dunque disse a Gesù Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto dice se tu fossi stato qui Gesù c'era stato a casa sua ma lei era presa da altre cose leggiamo il verso 22 ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio Dio te lo darà anche qui diceva così visto che tu sei un uomo saggio uno che stai vicino a Dio che preghi molto se tu intercedi Dio forse può fare qualcosa pure qua se intercedi tu vedi che situazione il bisogno ci fa accostare al Signore e qui si accosta al Signore Signore vedi se puoi fare qualcosa tu sei uno che preghi e così con le lacrime si esprimeva verso Gesù Gesù c'era stato ma lei aveva altre cose da fare poi nel bisogno eccoci corriamo a Gesù leggiamo il verso 23 Gesù dice così Gesù le disse tuo fratello risuscita come se Gesù avesse detto Marta ci penso io non ti preoccupare eppure è qui lei dice risusciterà nell'ultimo giorno leggiamo il verso 24 Marta gli disse lo so che risusciterà nella risurrezione nell'ultimo giorno forse aveva sentito qualche messaggio che aveva dato Gesù Gesù nel capitolo 6 di Giovanni nel verso 39 e 40 aveva parlato dell'ultimo giorno qualcosa gli era restato in mente questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nessuno di quelli che gli mi ha dato ma che li risusciterò nell'ultimo giorno vedi Marta Marta pensava che sarebbe risuscitato nell'ultimo giorno leggiamo il prossimo verso perché una cosa ci resta una cosa non ci resta perché questa è la volontà del padre mio che chiunque contempla il figlio e crede in lui abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno nel verso 24 del capitolo 11 Gesù disse un'altra cosa a Marta ma lei non aveva assorbito che cosa voleva dire Marta gli disse lo so che risusciterà nella risurrezione nell'ultimo giorno lei si riferiva a quello che Gesù aveva detto nell'ultimo giorno ma nel verso 23 Gesù stava dicendo qualcosa di molto importante ci penso io adesso non un'altra volta Gesù le disse tuo fratello risusciterà Gesù gli disse Marta guardami quando sono venuto le faccende non ti hanno fatto capire sono io la risurrezione sono io la vita hai capito se noi non stiamo vicino a Gesù non li comprendiamo queste cose nel verso 25 Gesù dice guarda Marta io sono la risurrezione io sono la vita io sono la risurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà perciò tuo fratello io l'ho risuscito adesso non nell'ultimo giorno gloria sia resa a Dio peccato che anche oggi tanti vanno in chiesa e non ascoltano perché non sono nati di nuovo sai che la nuova nascita è una risurrezione Gesù dice a Nicodemo che aveva tutta la conoscenza necessaria della Bibbia e io lo devo leggere spesso e l'abbiamo pure cantato tu puoi nascere di nuovo perché Gesù ha detto che noi dobbiamo nascere di nuovo in Giovanni capitolo 3 verso 3 dice che se non siamo nati di nuovo se tu non sei nata di nuovo non puoi entrare nel regno non puoi vedere il regno di Dio in verità in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio e nel verso 5 dice che se tu non sei nata di nuovo non sei nato di nuovo non puoi entrare nel regno di Dio puoi andare in chiesa quando vuoi puoi entrare la porta santa la porta stretta quale porta dalla sagrestia quale vuoi tu in verità in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito rinato dallo spirito non può entrare nel regno di Dio in molte chiese cantano risusciterò risusciterò e parlano sempre dell'ultimo giorno noi dobbiamo rinascere adesso prima se non siamo rinati dallo spirito risusciteremo a giudizio quando il Signore ritorna cantano risusciterò nel giorno del giudizio e non leggono con attenzione non ascoltano con attenzione che la nuova nascita è già una risurrezione dentro di noi perché noi siamo morti sotto i peccati nei falli e nei peccati morti come la cenere che copre il fuoco quando soffia lo spirito di Dio nella nostra vita risuscitiamo in novità di vita infatti San Paolo nell'Epistola agli Efesini nel capitolo 2 verso 1 dice che quelli che sono hanno ricevuto Cristo nella vita sono stati vivificati Dio ha vivificato anche voi questo vuol dire nuova vita nuova nascita voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati Signore grazie la partecipazione ne indicavano come era indica come eravamo prima della rinascita spirituale nascere di nuovo prima di essere rigenerati eravamo morti infatti Gesù nel capitolo 11 verso 25 dice io sono la risurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà dice che quando crediamo in lui chiunque chiunque vuol dire io e tu nel verso 26 chiunque vive adesso mentre stiamo vivendo e crede in me non morirà mai credi tu questo questa domanda la sta facendo a te e a me oggi io ci credo perché 57 anni fa sono nato di nuovo questo è la risurrezione la potenza della risurrezione di Cristo è un atto che lo compie Cristo non è che io sono stato bravo è un atto della grazia di Cristo come dice in Efesini 2 8 egli è per grazia che siamo salvati e ciò non dipende da noi è il dono di Dio è Cristo il dono di Dio che permette a noi di rinascere di nuovo gloria sia resa a Dio leggiamo Efesini 2 8 perché così ti segni i versi e li vai a leggere infatti è per grazia che siamo stati salvati siamo nati di nuovo siamo stati rivivificati mediante la fede ciò non viene da noi è il dono di Dio ma quando noi ci accostiamo a Dio con tutto il cuore la preposizione nei indica come eravamo prima rileggiamo il capitolo 2 verso 1 nei vuol dire è questa preposizione Dio ha verificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe dice qui è nei questa preposizione ne indica come eravamo prima della rinascita spirituale prima che fossimo nati di nuovo Gesù lo dice nel verso 25 del capitolo 11 dice proprio questo coloro che credono in me chi crede in me anche se muore fisicamente vivrà spiritualmente moriamo il corpo ma mai nello spirito nel verso 26 Gesù chiarisce questo concetto e chiunque vive adesso e crede in me non morirai mai non moriremo mai credi tu questo noi moriamo fisicamente ma non spiritualmente perché una volta che Cristo ci risuscita e noi ci alimentiamo di avere comunione con Lui la sua vita si trasferisce nella nostra vita perciò dice che dobbiamo avere comunione con Lui ora chiedi a noi chiedi credi tu questo tu che vai in chiesa da tanti anni credi che il Signore ti vuole risuscitare se non sei risuscitata in novità di vita se non sei nata di nuovo se non sei nato di nuovo devi chiedere al Signore Signore io ho bisogno di nascere di nuovo se no vado e vengo dalla chiesa e non ho capito mai questa cosa ci sono tanti che ancora non sanno che cos'è la nuova nascita pensano che la nuova nascita è quando sono stati battezzati che erano piccoli no altri pensano che la Pentecoste è quando fanno la prima comunione che fanno una grande festa fanno i dolci la prima comunione il battesimo nello Spirito Santo che si parla in altre lingue e noi l'abbiamo girata a frittelle ma che stiamo dicendo ma Signore aiutaci ora chiedi a te ma ci credi vada bene allora Marta comprese e disse ho capito cosa aveva capito nel verso 27 aveva capito qualcosa io spero che tu lo capisci oggi e io non voglio perdere l'occasione di ripeterlo 11.27 Marta disse ora ho capito chi sei e lei gli disse sì Signore io credo che tu sei il Cristo il figlio di Dio che doveva venire nel mondo e quando lei disse così alleluia cambiarono le cose divenne una credente e credette che Gesù è il Cristo mandato da Dio il figlio di Dio che lui è Dio e lì successe il grande miracolo ora crede che Gesù è Dio e lui gli fa vedere quello che ha detto cosa ha detto nel verso 25 io sono la risurrezione e la vita beh guardiamo nel verso 43 perché ci manca il tempo di leggere però leggiti queste storie nel verso 43 Gesù dice perché hai creduto ecco qua si avvicinò vicino alla tomba di Lazzaro gridò ad alta voce Lazzaro vieni fuori al comando di Gesù che è il nostro creatore che dovette chiamarlo per nome perché se avesse detto morto esci fuori uscivano tutti i morti che c'erano in quel cimitero perché Gesù è Dio è diventato il tuo Dio colui che doveva venire nel mondo come ha detto Marta è diventato colui che tu aspettavi come il salvatore del mondo è diventato il tuo salvatore se no invocalo subito Signore aiutaci questo giorno Lui è venuto per darti la nuova vita spirituale e vuole vivificare te in questo giorno in Efesini 2 5 parla di vivificazione anche quando eravamo morti nei peccati ci ha vivificati con Cristo e per grazia siamo stati salvati come ha fatto con me come ha fatto con milioni di persone come dice nel verso 1 dello stesso capitolo leggiamo lo vuole fare nella tua vita oggi ma è Lui ti devi rivolgere a Lui Dio ha vivificato anche voi voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati quando siamo sotto il peso del peccato siamo morti abbiamo bisogno che Lui deve soffiare nella nostra vita e Lui soffia nella nostra vita ma dobbiamo dare spazio alla parola la parola porta la vita di Dio nella nostra vita perché viene fecondata dallo Spirito Santo perciò Gesù Marco 4 24 dice a te a me vada ciò che odi ogni giorno da parole di vita quando leggi quando ascolti con la misura con la quale misuri prendi ricevi curi la parola così ricevi risultati nella tua vita e a te chi ascolti con attenzione ti sarà dato in più perché perché la parola produce la parola che come il seme diventa una spiga cinque spighe può portare anche sette otto spighe un chicco perché se tu hai visto ogni chicco fa un ceppo bellissimo perciò dobbiamo curare la parola dobbiamo stare attenti quando ascoltiamo dobbiamo subito metterla in pratica il regno di Dio entra in te per mezzo della parola lo spirito santo la feconda se gli dai spazio cresce se no dimentichi pure quello che hai sentito leggiamo il verso venticinque signore aiutaci questa mattina poiché a chi ha sarà dato e chi lo dà non pone attenzione sta distratto pensa a tutte le altre cose sarà tolto anche quello che ha e perdi tutto anima spirito e corpo e perdi anche i beni che hai recuperato durante la vita perché quando te ne vai oggi o domani succede che ce ne dobbiamo andare non ti porti niente sei stato sulla terra per niente aiutaci signore oggi tutti i beni che hai ti trovi solo davanti a lui nell'ultimo giorno per essere condannato da Gesù perché Dio ha mandato Gesù con uno scopo ben preciso in Giovanni 13 a 7 dopo dice che Dio ha mandato dopo che dice che Dio ha mandato suo figlio nel mondo infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicarci ma perché possiamo essere salvati per mezzo di Lui perciò devi credere in Lui se non credi risusciterai nell'ultimo giorno ma come leggiamo il verso 18 chi crede in Lui non è giudicato perciò dobbiamo credere in Lui che Gesù è quello che dice di essere quello che dice il Vangelo che Lui è e noi dobbiamo con attenzione seguire le indicazioni e la Sua parola quando ci parla chi non crede invece è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio Marta aveva creduto e come credette vide il suo fratello risuscitato tu se credi il Signore risuscita te oggi novità di vita credi tu questo lo dice la parola di Dio è parola di Dio se tu ci credi Lui ti risuscita in questo momento tu puoi nascere di nuovo ci manca il tempo di ricantare quel canto però te lo ripeto io tu puoi nascere di nuovo e di nuovo camminare nelle vie del Signore voglio pregare insieme con te preghiamo insieme Spirito Santo di Dio guida questa preghiera guida prenditi la mia mente il mio cuore il mio essere prenditi la mente il cuore l'essere della sorella del fratello che in questo momento siamo insieme che desidera nascere di nuovo toccala profondamente ed opera nella sua vita toccalo profondamente ed opera nella sua vita Signore la affido a te perché sei tu che compri questa opera Spirito Santo di Dio ti prego per la sorella che ha compreso quanto è importante nascere di nuovo per il fratello che ha compreso quanto è importante che deve nascere di nuovo per coloro che siamo nati di nuovo rafforza la nostra fede in te perché possiamo camminare con te ed ogni volta con attenzione porre mente a quello che tu dici per fare quello che tu ci dici di fare te lo chiediamo insieme o Dio Onnipotente nel nome di Gesù il tuo figlio il Signore il Signore dei Signori il nostro Signore il Re dei Re Dio venuto in carne vero uomo e vero Dio per venirci a salvare ti ringraziamo per la tua parola benedici la sorella benedici il fratello benedici tutti coloro che abbiamo ascoltato la tua parola riversa la tua divina presenza in ogni cuore che possiamo porre mente per ascoltare la tua parola e con spirito di dedicazione sottomissione di verenza possiamo avvicinarci a te e dire Signore vieni nella mia vita non voglio camminare non voglio fare neppure un altro minuto senza di te nella mia vita per camminare con te fino all'ultimo minuto fino all'ultimo respiro nel nome di Gesù Amen 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 Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org